Grazie Presidente, colleghi. Allora, questa tematica del gender se ne sono viste di tutti i colori, volantini di ogni tipo, fra quali questo per l'appunto. A me mi preoccupa quello che sta avvenendo in termini di decontestualizzazione dei termini del discorso legato al gender. Sono d'accordo, è evidente che il gender è un gender, gender quello che è, è un termine buttato lì dove non esiste nessuna teoria del gender. A me piace chiamarlo il genere. Non si può dare informazioni errate. Dobbiamo spingere tutta la popolazione, tutti i nostri lettori, ad andarsi a leggere il documento dell'OMS, sono 64 pagine, e leggendolo e avendo una capacità di comprensione media si riesce a capire effettivamente quello che questo documento vuole esprimere. Vuole esprimere semplicemente che nell'insegnamento in passato tante volte avveniva che la tematica sessuale aveva delle connotazioni quasi sempre negative, invece si vuole dare spazio alla positività invece di un rapporto cosciente con la propria sessualità e con il proprio corpo da tenere età. Perché poi è nella tenere età che si creano devianze, problematiche, scogli e guasti che poi non si correggono nell'età adulta. Io vi invito quindi a leggere il documento dove vengono date, perché i termini che vengono, io addirittura sono dei volantini dove si impone a bambini l'autoerotismo, cioè una roba veramente assurda. Cioè il documento, ci sono diverse fasi del bambino da 0 a 4 anni, da 4 a 6 anni, dai 6 ai 9 anni, dai 9 ai 12. Allora qui si fa innanzitutto un'informazione che va all'adulto, quindi all'insegnante, che viene a conoscenza di cosa avviene all'interno del bambino in tutte queste fasi. Poi c'è una fase delle competenze, sempre degli insegnanti, insomma mettere i bambini in grado di. E poi ci sono gli atteggiamenti che l'insegnante può avere in determinate circostanze. Comunque questa cosa del genere, secondo noi, io parlando anche con degli insegnanti, ma guarda che sta avvenendo da anni. Da sempre le insegnanti hanno tolto... Scusate, una cortesia, siccome c'è un grande brusio in aula, credo che a tutti fa piacere essere ascoltati, io credo dovremmo cominciare anche ad ascoltare. Se è possibile tenere magari un tono di voce un po' più basso rispetto ai confronti di chi sta parlando, grazie. Grazie, Presidente. Dicevo, da anni questo avviene nelle scuole, contro... Non c'era una normativa, una normazione dell'educazione sessuale. Se si acquistano delle competenze e si riesce a far crescere i bambini in maniera più equilibrata, sul loro stessi e sul loro rapporto con il proprio corpo, non ci vedo nulla di male. Anzi, eviteremo delle storture che molti, nelle precedenti generazioni, sono stati soggetti e quindi hanno avuto notevoli problemi. Grazie.